Ciao a tutti, amici, vi do il benvenuto sul mio canale, vi do di nuovo il benvenuto con il video di Ken Yaman e Demetos Demir. L'attore turco Ken Yaman ha recentemente sposato la sua compagna di lunga data, l'attrice Demetos Demir, in una tempesta di romanticismo e celebrazione. La coppia, che ha affascinato il pubblico con la loro chimica sullo schermo nella serie tv in cui hanno recitato, ha chiesto di sposarsi ai loro amici più cari e la famiglia durante una cerimonia speciale. Ken Yaman ha parlato del loro giorno speciale in un'intervista speciale e ha dato loro uno sguardo alle gioie che hanno segnato l'inizio del loro viaggio matrimoniale. Dal momento in cui ci siamo svegliati la mattina del giorno del nostro matrimonio, c'era un'innegabile eccitazione nell'aria, ha ricordato Ken Yaman, i cui occhi brillavano di bellissimi ricordi. Demet ed io aspettavamo questo momento da così tanto tempo e vederlo finalmente realizzarsi è stato davvero surreale, sorprendente, straordinario. Indossando abiti eleganti adatti a questa occasione, la coppia ha diffuso felicità mentre si scambiavano i voti nuziali ed entravano insieme in una nuova pagina. Ken Yaman ha affermato che si tratta di un ambiente elettrico in cui l'amore e le risate dominano ogni momento. La nostra famiglia era raggiante di orgoglio e i nostri amici erano lì per sostenerci in ogni fase del percorso. È stata una giornata piena di emozioni travolgenti, ha condiviso Dot. Ma soprattutto è stata una giornata piena di amore. Mentre il festival continuava fino alle ore serali, Ken Yaman e Demet Osdemir hanno pensato un po' al viaggio che li ha portati fin qui. Grazie a tutti per aver guardato questo video. Arrivederci, ci vediamo in nuovi video.